La prossima aria costa 5.000 dollari e ne abbiamo 11.000, vai! Sfida numero 1, cascata nella giungla. Prendiamo il teletrasporto. Ah, non ce l'hanno fatta vedere, peccato. Ah, ci siamo già teletrasportati, ma poverino. I felci giganti e serpenti velenosi. Che razza di teletrasportatore si fa arrivare nella terra del fuoco e poi si rompe. Che piacce dell'acme. Tempo della scimmia blu. Ehi, questo vuol dire che si avvicina al gran finale. Eh beh, sì. Gran finale? Sinfonia di fogna legittiametti. Se davvero voglio prendere quel canarino in questo videogame, devo assolutamente darmi una moffa. Non ho ben capito l'introduzione di... Bello il... Mi sembra di aver visto un livello simile in Super Mario, eh? Non vorrei un livello che fosse in discesa. Sì, come no. Ancora scimmie, prendila prima che arrivi in cima. Oh no. Comunque, a parte quello, ma l'introduzione qua con Silvestro o cosa c'entrava, poverello? Eh, chi dobbiamo usare? Giusto per capirci. Allora, tutti e due? Allora, dammi un attimo prima di scegliere... Ok, andiamo. Prima, dall'altra parte. Ciao nonna, ciao. Ma i tuoi occhiali, nonna? Che fine hanno fatto? Comunque, di qua si passa? No. Di questo uno shortcut? Non lo so. Andiamolo a controllare. No! Cacchio. Ok, ti chiedo scusa, Duffy. Non era quello che doveva succedere. Bugs non può andare da questa parte. E allora niente, continuiamo con lui. Oh no! Si è buggato il gioco! Si è buggato il gioco! Non riesco più a uscirne! Non riesco più a uscire da questa situazione! Ok, aspetta, perfetto. Ti devi spostare, per favore. Ok, riproviamoci questa volta... Con... Un po' più di attenzione. Silvestro! Smettila! Io vi denuncerò la protezione animale! Eh, c'hai ragione. Uh! Eh, no! Cavolo! Ho saltato troppo presto. Cos'è sto robo? Non siamo finiti noi intanto. Allora, potrei andare da quella parte e tagliarmi un pezzo di livello. Però sento una ranocchia io. Credete che sia sull'albero? Non lo so. In ogni caso. Non c'è? No? Cavolo! E niente, mi devo fare il percorso per forza di cose. Ma... Ah, porca miseria! Non ce la potrai mai fare con tutto quel pelo bagnato. Eh, lo so, lo so. C'hai ragione. Comunque, io volevo arrivare... Ma non riesco ad andare avanti. Ok. Boh, non lo so. Va bene. Va bene così. Allora, di là non ci arriviamo di sicuro. Quindi... Questo affonda. Mi sa che devo muovermi prima che affondino le cose. Niente, qua devi fare molta attenzione a questo livello, se vuoi passare. Allora, niente. Prendiamo la strada più sicura. Ecco qua. Oh, attenzione piragna. No. Ok. No, no, no. Hai scivolato, che cacchio. Ok. Eccoci qua. Perfetto. Vieni qui con me. No, in realtà no. Fermati. No, porca. Oggi, sto livello, lo sto odiando. Ma porca... Ma sta telecamera... Oh, ti deve girare da questa parte, maledizione. Guardalo che non gira. Guardalo che non gira. Ma porca di quella miseria oggi. Oggi mi arrabbio, ti giuro. Ok. Devo per forza... Fagli fare... Il giro... Il giro completo. Per farlo aggrappare, Dio mio, oggi. No, oggi. Oggi, Dio santo, lo ammazzo, sto gioco. Oggi lo ammazzo. Ok. Madonna mia. Dov'è? Ma porca miseria. Sono fatto malissimo. Vieni qua. Ma... Bugs, Dio mio. Tanto ci vuole saltare contro un cavolo di muro. Lo fa Super Mario da una vita. È proprio un tipetto di richiedi. Ma il problema è che in sta zona lui non si gira. Lui non si gira completamente. E quindi non posso... Guardalo. Perché non vai? Dio mio, oggi... Oggi, Dio santo, lo spacco, sto gioco. No. Fermo lì. Preso. Ok, aspetta, aspetta. Non lo vedo. Ma porca sta... Maledettissima... Maledettissima cascata. L'ho presa. Dai. Salta. Non mi fanno assolutamente pausa quelle borsette con le gambe. Dov'è? Smettila di muoverti. Smettila. Dio mio, se lo odio. Lo odio sto livello. Lo odio perché sta parte qua di mappa io non mi posso girare completamente. E lui, se non si gira completamente, non salta per bene. Non arriva dall'altra parte. Lo sto odiando malamente sto livello. Guardalo. Perché non ti aggrappi? Perché non ti aggrappi? Perché non arrivi dove devi arrivare? Dai, arrivaci. Cavolo. Ti giuro che sta scimmia mi sta dando sui nervi tutti questi rumori. Ferma lì. E' firma. Colpiscila, Dio santo. Sai perché missione fallita? Perché il gioco è programmato coi piedi. Ecco perché missione fallita. Vabbè, visto che mi ha fatto restartare da qui, proviamo ad andare dall'altra parte con Duffy. Vediamo che succede. Ci sarà una sala bingo da queste parti. Nonna, basta spendere la pensione nelle sale bingo. Che poi io ci ho lavorato purtroppo in una sala bingo. E posso essere onesto, di vecchiette come la nonna qui, io ne ho viste che buttavano via la pensione. Ok, eccoci, è arrivati dall'altro lato. Fermati lì. Ok, dove mi porterà questo bellissimo macchinario? Mi porta solo a questo? Mi ha portato solamente alla ranocchia? Però lì ce l'ha... No, non credo. Di poter fregare il gioco, vero? Vabbè, almeno abbiamo Bugs qua vicino. Ok, nella speranza che questa volta il gioco mi dia meno problemi e la vedo difficile. Andiamo e meniamo quella maledettissima scimmia, per favore, Bugs. Il problema è che lei salta altissimo. Presa. Presa. No, Bugs, girati. Maledizione. Maledizione, la telecamera ti devi girare. Ti devi girare. Quando te lo dico io, per favore, te lo devi mettere maledettamente in testa. Fermo lì. Cacchio. Muoviti, muoviti, muoviti. Chi sei? Frega del danno da caduta. Presa. Oh. Oh, Bugs, era semplicissimo. Peccato che ci abbia messo tempo del dovuto, come al solito. Ok, dobbiamo arrivare nel naso e premere i due bottoni. Ma con Duffy, come facciamo? Ah, c'è il... Ok, basta usare il teletrasporto, certo. Ok, facciamolo già avvicinare di qua, poi dopo vediamo. Ma questo tizio qua... Ok, posso menarlo tranquillamente. Ok, grazie. Preso e... Preso due volte. Grazie. E finalmente, senza dover andare a inseguire quella maledettissima scimmia, possiamo... Se solo i prompt andassero nel modo giusto in sto gioco, dicevo, possiamo andare avanti. Ecco qua, grazie. Guarda, onestamente i soldi sono il mio ultimo dei problemi, ora come ora. Però, già che ci siamo, noi raccogliamo tutto. Dite che se vado di là succede qualcosa? Vabbè, allora facciamo una cosa intelligente. Prima di tutto, ecco qua, chiamiamo Duffy. Perfetto. Ammazziamo il tizio, già perché è qui. Ecco, fatto, grazie. E... Già che ci siamo, proviamo solamente... Oh, vai di là? Bugs? No? Strano. Ah, ok, perfetto. Allora niente. Sto dicendo, andiamo a vedere cosa c'è da quella parte. Assolutamente nulla. Ci siamo già risposti senza neanche aver dovuto spercare il nostro tempo. Allora, prima vai tu. Hai mai avuto l'impressione di essere osservato? Che poi, tra l'altro, so già di aver dimenticato sia un mangime sia una statuetta di sotto. Perché dovevamo buttarci giù dal ponte. Però non ho avuto letteralmente voglia di farlo in quel momento. Devo buttarmi giù con Bugs? Ho visto che... No, pensavo che era terriccio, potevo scavare. A proposito del terriccio. Quella funzione qua me la dimentico costantemente, ma a Las Vegas di terriccio ne abbiamo trovato realmente poco. Men che meno nell'area 52. Ok, prova a trovare la piattaforma trappola che attiva le statue delle scimmie. Ok, quindi è tutto casuale. Ok, niente. Ok, sì, anche a me sembra una grande trappola. E dubito che la soluzione sia nelle prime zone. Sarà, purtroppo, in quelle in fondo. Però abbiamo già trovato due bottoni. Perfetto. Ahia, ma vaffanculo. Ma scusami, ero fermo dalla cazzinio ancora. Ok, allora, aspetta un attimo. Perfetto, proviamo a fare cambio. Vediamo se prosegue. Vai di sotto. No, mi ha fatto cadere anche a me. Però... Almeno la caduta ci ha portato a qualcosa di buono. No. Eh, in realtà posso anche... Sono apparsi i soldi. Vabbè. Non importa quello che è successo. Mi importa che noi... Esatto, dobbiamo risalire di sopra. E andare. Ma... Sto coso qui? Ma... Ah, sono... Sono esplosivi. Scusami un attimo, aspetta. Fammi apparire ancora. Vieni qua. No, no, fermo. Ma quanto fermo, cari... Li odio. Li odio. Com'è che si mirava? No, ho sbagliato. Vuoi vedere che solo Bugs può mirare? Mi sembra strano però, scusa. Eh, vedi, lui non lo fa. Vabbè, non importa. Ah, bastava tenere premuto con lui. Proviamo a fare così, scusami. Proviamo a lanciargli lì. Allora, aspetta. Vieni qua tu. Piccolo coso. Allora, proviamo a colpire Silvestro. Anche se dubito che ci arriviamo da qua, sai? Allora, iniziamo a colpire la maschera, magari. Ok, no, non serve. Peccato. E allora, cosa mi servono, scusami? Bah, vabbè. Ok, quindi, piattaforme volanti. Qui abbiamo... Oh, no. Cavolo. Sto livello lo sto odiando. La telecamera è così stupidamente messa male che non ti fa neanche salire sulle piattaforme. E devo far star zitto quel coso lì che canta perché ti giuro mi sta dando i nervi oggi. Tutto mi sta innervosendo. Vabbè, Bugs, vai tu per favore. Ok, eccoci già arrivati. Perfetto. Prendiamone due con un colpo. Questo sì che è divertente. Aia. Ecco fatto. Ok, ci manca ancora un silvestro. Ok, non c'era nulla, a parte le frecce. Niente. Ok, soldi che ci servono realmente a poco. Uh, uh, tanti soldi. Grazie. Oh, finalmente. Bella madonna. Quanto sono grossi. Vabbè. Chi lo sa con cosa avremmo dovuto colpirli. Pensa un po'. E ora vediamo cosa riesce a fare un vero papero. E allora, vero papero. Vieni qua. Piccolo animaletto. Fermalo, fermalo. Eccolo qui. Allora. Ma dici che ci arriviamo? Sì. Preso. Perfetto. Bella, di nuovo? Ma scusami. Preso. Perfetto. Ma quante volte dovrò colpirli? Mmm, non lo so. Speriamo non troppe. Ok, fermo lì, fermo lì, fermo lì. Ah, porca. Eccolo qua. Da questa parte. Perfetto. Allora, aspetta. Ti muovi troppo. Preso. No. No, no, no. E pure il ruttino ha fatto. Ma quante volte ti devo colpire? Ma basta. Fermo lì tu. Di nuovo puntiamo a questo qui. Aspetta, vai. No. Ok, preso. Perfetto, perfetto. Credo che siano due set da tre, sai? Perché adesso si stanno muovendo molto velocemente. Oh, spostati però. Si stanno muovendo molto velocemente. Preso. Perfetto. E una. Andata. Ok, che era quella più difficile poi. Perché eravamo più lontani. Quindi. Ne manca solo una. E qua purtroppo non è tanto a livello di tempismo. Ma a livello di quanto va veloce il proiettile. E infatti. Oh, perfetto. Stavo dicendo. E infatti non l'abbiamo presa. Quindi? Basta. Ah, che bello. Meno male. Meno. Oh, la scimmia. Ti ringrazio. Ti ringrazio. Meno male che poi queste stanno anche ferme, pensa. Pensavo anche se si muoveva, no? Scimmietta. Presa. Presa. Guarda come ti somiglia da... Sai che pensavo si aprisse ai coi denti? Non tutto quanto. L'ho visto muoversi e ho detto, vediamo. Allora, ho visto... Dov'è che è? Eccola lì. Però onestamente sto a livello, guarda. Le sto praticamente lasciando andare via un sacco. E mi frega relativamente poco. Voglio finirlo perché mi ha già dato i nervi la prima parte, Dio mio. Mi ha proprio fatto venire il nervoso. Ok, tizio gigante. Ah no, sembrava dalla prospettiva enorme. Quindi dobbiamo salvarlo. Oh, calmo, calmo. Cosa devo fare? Cosa è? Cosa è? Chi è? Ok, aspetta. Ahia. Ho capito. Ma io cosa devo fare? Devo andare a cercarne altri? Eh, muoviti, muoviti. Ma come ci arrivo di là? Aspetta. Grazie. Che poi è anche a tempo sta cosa. Ok, sì, ci siamo arrivati. Ammetto che non ci avrei... E come si fa? E che a questo punto ci vogliono i miei superpoteri. Eh, ho capito. E come si usano i tuoi superpoteri? Cosa devo fare? Cosa vuoi da me? Niente cambi qui, Daffi. Eh, niente cambi. Te li do io, niente cambi. E come si usano i tuoi superpoteri? E come si usano i tuoi superpoteri? E come si usano i tuoi superpoteri? Sì, 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 basta che ti muovi. Muoviti, per favore. È inutile che mi fai guardare la cutscene che ho guardato 200 volte. Dai, 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 dai. Che ho 30 secondi neanche per poter passare. Per favore, muoviti. Muoviti. Ecco fatto, perfetto. Muoviti, muoviti, muoviti. Ecco fatto, grazie. Non so se quei 10 secondi mi bastano, però... Già che siamo qui. Meglio sfruttarli al meglio senza dover comprare un altro costume. Ecco qua, muoviti. Guarda, non so se mi serve Bugs, ma... Onestamente, no. Sì, 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 basta che vi muovete. Ho purtroppo poco tempo. Dove devo andare? Di qua, perfetto. Uff, ok. Oh, di nuovo? Eh, ho bisogno di un bagnetto. Io ho bisogno di capire dove cacchio devo andare. Maledizione. Eh, siamo già a metà del tempo e non abbiamo fatto assolutamente nulla. Mi sa che... Boh, mi sa che me lo dovrò rifare sto livello. Vai, 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 muoviti. Basta che ci muoviamo perché il timer sta scorrendo e io non so neanche dove sto andando. Dai, 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 dai. Perfetto. Ok, ok. Dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Cosa devo fare? Ah, fantastico Ok, in tutto ciò io dove devo andare ora C'ho ancora il timer che scorre Ma non so dove devo andare Ecco qua, ok Forse devo tornare solo indietro Non lo so, non lo so Muoviti, muoviti Che dove devo andare Mi sto andando, cos'è? Ehi, troppe persone Ok, perfetto, ce n'era un altro Non l'avevo visto Eh, ciao Mi sa che il timer purtroppo se ne va Mi sa che il timer si consuma qui Sì, sì, sì Basta che vi muovete Vai, corri Eh, purtroppo il timer è andato E io mi sa che ho perso il tempo No, dall'altra parte Ok, aspetto, ho bisogno di Bugs Ma non ce la farò mai Non ce la farò mai in quel poco tempo Questo non è mica un solitario Altro che Tiedo il cambio per un po' Duffy Eh, c'era altri 5 centesimi Muoviamoci Eh, ciao Ok, no Aspetta Come faccio a proseguire? Ah, ma Smettila Ok, perfetto Perfetto Vai, esci Eh, ciao Ok, muovetevi Forse ce la facciamo Forse ce la facciamo Ok, vai Manca proprio Piccolino Ti prego Muoviti Non voglio rifarlo Non voglio mettermi a rifare sto livello Ok, muoviti Muoviti Corri Dove cavolo è? Dove è? Eccolo, eccolo Non ho idea di come abbiamo fatto Ma meno male Sia benedetto il cielo Meno male Dov'è? Ma Fermo lì No, 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 no Fermo, non cadere Ecco fatto C'è un imbassio C'è un imbassio E arriva la nonna Grazie Grazie nonna Eh, come no Porca miseria Dov'è? Eccola Ehi, salto Presa Madonna mia Ammetto che non ci avrei creduto Se non ce l'avessimo fatta per davvero Aiuta Bugs a trovare il suo amico Con la testa pennuta Che vuol dire? Ah, forse intende Dobbiamo tornare dal nostro amico Gallone Che ci darà sicuramente un'altra scimmia Ce ne chiederà se ne vogliamo comprare un'altra Beh, adesso i soldi In teoria Non ci servono più Non dobbiamo più andare da altri livelli Volendo proprio fare i pignoli Possiamo comprarla Stranieri Ha ha Gente di fuori della giungla cerca di intrupolarsi Ok Oh, aspetta Salva dappi Prima che sia troppo tardi Ah, ma è andato via E allora Aspetta Vabbè, sono rimasti i soldi Però, onestamente Ah no, era solo una carota Pensavo che erano banconote io Guarda Potrei anche Perdermi E cercare di prenderla quella Però Vabbè, forse Ok, ci arrivavo Dicevo Forse non ci arrivo Però Tanto meglio Forza Bags Ma come tanporca Il problema è che Ovviamente noi ci dobbiamo arrivare A piedi Non possiamo nuotare Ah, va bene Aspetta Dov'è Ah, proprio non c'è più niente Devo proprio Ok, grazie Ma se è alta A due centimetri L'acqua Ci arrivavi Dicevo Ecco Qua Calmo ora Perfetto Ok Stava affondando Ok, meno male Ok Salva d'arte Abbiamo due minuti Ma per fare Che cosa? Cioè Devo proprio raggiungerlo O Devo solo Tipo Non morire Credo Che dobbiamo raggiungerlo Però Credo anche che il gioco Implichi Che Io eviti gli ostacoli Eviti i nemici Anche Eh, io come faccio A sapere qual è il percorso Più breve Io vado avanti Io vado avanti e basta Nel senso Cerco di Avvicinarmi il più possibile Magari inseguirlo Non è neanche Ehi, la telecamera Ma guarda la telecamera Ma porca Io credo che inseguirlo Non sia neanche la soluzione Credo che Tipo Ecco Mi fa gli scherzoni Mi fa gli scherzoni il gioco Credo che Il modo più veloce Per prenderlo Sia andare tipo Nelle zone secondarie Magari riusciamo tipo A tagliare il percorso Una roba del genere Ecco qua Tipo Forse Forse noi dobbiamo seguire le monete E Non lo so O forse è tipo una sfida Restagli il più vicino possibile Per un minuto Perché io non mi sembra Ad avvicinarmi Mi sembra un po' la Prendirò Oh Preso Meno ma Non so cosa sia successo Il gioco l'ha bloccato Lì nell'acqua Tanto meglio per noi Meglio così Perfetto Vai e prendere quella scimmia Devo aver fatto qualcosa di giusto Non mi sembrano Intenzioni amichevoli Ehi Altri cinque centesimi Eccola qua L'altra scimmia Meno male Credo che l'ultima scimmia Si trovi proprio là dentro Sai E ora di acciuffare Quei fastidiosi membri Della tribù Trovali No 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 Grazie a tutti.